Le regionali per noi sono sempre state delle competizioni difficili, ma è chiaro che avremmo voluto un risultato diverso, d'altronde se andasse tutto bene non staremmo facendo una costituente, quindi non è assolutamente il momento di abbattersi, ma di invertire la rotta. Io non credo che ci sono indiziati, ci sono ragionamenti in corso e non è un processo, non è un tribunale e il Movimento 5 Stelle comunque ha dato il massimo.